Siete, siete, stacca nei pressi, oltre, oltre, tutti a... E' la babbò, è la babbò. E con questo ragazzo che torneranno con noi ancora. Ovviamente vediamo anche le tue informazioni per questa ottava giornata di campionato di Serie A tra Napoli, capricciando dagli ospiti. Napoli, Napoli! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.